si parte salutiamo gli amici di radio off topic in linea e cominciamo il sorteggio dunque della champions league salutiamo riportiamo gli amici di radio off topic sport appena collegati prima pescata atletico madrid atletico madrid vediamo io avevo detto nelle mie previsioni in monaco ma se esce bayerno basso real mi fate un favore comunque che mi levate una squadra pesante sono teso adesso sono teso la sento abbiamo il rush non fare non fare pirlate rush l'ester ma ragazzi incredibile monaco non è possibile atletico madrid l'ester mamma mia il culo di simeone è incredibile ragazzi incredibile dunque atletico madrid l'ester simone che nei sorteggi ne azzecca in una maniera impressionante il fondo schiena di simeone ed è allora questo punto qua vediamo che dormut dormut questo andrebbe anche bene anche perché uscito per prima quindi potrebbe capitare un borussia juve anche se l'abbiamo giocata col borussia lo ricordiamo ecco l'estero era bello anche perché non c'è mai giocato contro ecco vediamo 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 contro monaco non è possibile non è possibile non ci credo cioè e quindi le quattro più scarse si sono affrontate tra di loro e le quattro più forti si affronteranno tra di loro non ci posso credere incredibile incredibile non è possibile non è possibile non è possibile ma che sfiga maier monaco incredibile ragazzi incredibile incredibile che il cassisiso se becca al barso la juve cristian lisco escirà con te sappilo real madrid e barcellona juve ragazzi barcellona juve vediamo se come spero la prima camp no non ho azzeccata una non ho azzeccata una speriamo di giocare l'andata camp no dai se l'ha visto che a quel punto lì vediamo se almeno una cosa positiva eh no giustamente la prima torino eh beh giustamente cazzo che sfiga ragazzi dai però non do la juve per morta non siamo polli come psg questo è sicuro bene ragazzi è finita qua dunque bari al monaco real madrid borussia dormun monaco atletico madrid l'estero e juventus barcellona la chiudiamo qua io mi auguro che mi auguro che la juve faccia la sua partita non si spaventi ce la possiamo giocare bene questa sarà la partita che determinerà se la juve potrà vincere o meno la champions league la staremo la vedremo la vedremo e staremo a vedere intanto io vi saluto complimenti a chi casiniso perché aveva detto juve bars e juve bars è stata vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video del canale da Roby è tutto un saluto da fuori rosa tv e radio off topic sport alla prossima ciao 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 ciao